Si aprirà ufficialmente sabato 8 dicembre alle ore 17 i Borghi del Natale, manifestazione organizzata dal comune di Monte Corvino Rovella in collaborazione con le associazioni locali che fino al 30 dicembre coinvolgerà tutte le frazioni del territorio in un connubio fra cultura, valorizzazione delle bellezze locali e gastronomia. Ricco il calendario degli eventi per il primo weekend. Sabato 8 dicembre appuntamento nei pressi del comune alle ore 17 per l'accensione dell'albero con l'accompagnamento dei Viente Terra. Il resto del cartellone verrà presentato nei prossimi giorni. Grazie al lavoro svolto dall'assessore Quaranta e dalla consigliera Biondina Coralluzzo è stato creato un calendario di eventi molto folto e soprattutto con tantissimi eventi culturali e ricreativi che rallegreranno e soprattutto daranno nuova verve a tutta la comunità. Devo ringraziare in questo contesto anche la regione Campania che ha contribuito su nostra richiesta a darci una mano ad organizzare tutti questi eventi. contribuendo in maniera seria affinché Montecorvino Rovella potesse tornare ad avere una grande attività natalizia. Spero che in questi eventi ci sarà grande partecipazione dalla gente dei montecorvinesi ma non solo perché l'attività culturale che è stata messa in campo è di altissimo profilo con delle persone di una dignità professionale e umana molto forte. Speriamo che queste cose vengano veramente apprezzate da tutti i montecorvinesi. Questo è anche il primo Natale della sua amministrazione, che segnale ha voluto dare? Un segnale come abbiamo detto sempre di cambiamento, di dare un nuovo verve come dicevo prima al territorio. Stiamo lavorando affinché possiamo cambiare tante cose a Montecorvino Rovella, ce lo stiamo facendo con dei piccoli segni e il Natale nella riprova di questo cambiamento. Grazie.